E' stata arrestata la mamma del piccolo trovato a vagare solo per strada dalla polizia di Coleray in Township in Ohio. La donna, Heather Nicole Atkins, 32 anni, è detenuta a Georgetown, Kentucky. Non sono ancora chiare le accuse di cui la donna dovrà rispondere. Quel che è stato accertato però è che lei, la mamma del bimbo di 5 anni, autistico, che dopo essere stato abbandonato, è stato trovato in strada da solo. Giovedì, secondo quanto emerso, finora la donna lo avrebbe lasciato solo. Il piccolo che non parla è stato poi salvato dalla polizia dopo le segnalazioni di alcuni residenti preoccupati. Un'automobilista in particolare aveva riferito di aver visto il bambino camminare da solo, fradicio, su Gaines Road vicino a She Road. Subito dopo le 21 del 17 febbraio, il piccolo era solo e salutava le auto che passavano. Le autorità avevano poi diffuso una foto del bambino con la speranza di avere informazioni sulla sua famiglia.